Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video! Allora, oggi, come avrete detto dal titolo, sono qua per registrare un videotrucco che in realtà è semplicemente la prova del mio make-up per il mio diciottesimo, la mia festa dei diciott'anni il trucco lo vedrete qua, voi, sullo schermo, mentre io ho la foto qui non è uguale, perché non lo farò uguale, lo farò ovviamente secondo le mie capacità però mi ispirerò a questo, tipo le labbra lucide, già non saranno lucide perché io odio lucidi ma poi non resiste perché lo mangio, quindi non avrebbe senso mi sono avvicinata un po', spero più o meno lo vediate, al massimo mi metto ancora, ma penso si possa vedere allora, prima cosa metto la crema come base ho preso lo specchio, ah sì, sono tutta rossa perché è normale quando metto la crema ho preso lo specchio di Barbie, perché in realtà in camera è l'unico che ho e se l'ho dimenticato di là e non ho voglia di andarlo a prendere inizio con il fondotinta, in realtà non ne applico tanto giusto dove ho sto brufolo e basta praticamente anche perché questo fondotinta è di mamma, quindi insomma bisogna usarlo col contagocce ok, dopodiché metto il correttore, ovviamente sembra che non mi sono coperta per niente ma anche perché ho tutte le luci artificiali oddio, sta finendo il correttore comunque ho fatto gli anni del primo novembre non so se sapete appunto quando è il mio compleanno ma è il primo novembre e mi è andata a distra perché il primo novembre siamo sempre a casa, da scuola e comunque anche i lavoratori sono sempre a casa mia mamma mi ha detto che sono andata alle 6 e mezza barra 7 del mattino per una che non è mattiniera ok, questo qua è il risultato, si vede già che è più coperto di prima poi vabbè, non ci posso fare niente quel periodo del mese adesso non fisso subito con la cipria il tutto ma fisso soprattutto questo bubone qua sembro un cadavere ma adesso metterò un po' di terra, giuro infatti andiamo di terra comunque è strano dire che ho 18 anni un sacco strano, cioè che poi in realtà non cambia niente da quando ne hai 17 ok, hai qualche responsabilità in più la cosa che cambia tanto ovviamente è la fine delle superiori comunque del liceo e la patente, grazie però non è che cambia così radicalmente la vita io l'ho detto ai miei genitori sicuramente entro la fine dell'anno scolastico vorrei avere la patente e anche perché poi con l'università è molto meglio cioè piuttosto che prendere il treno a pullman preferisco assolutamente andare in macchina ok, questo qua è il risultato, adesso passiamo alla cipria e adesso fissiamo con lo spray domani andiamo anche dalla pettinatrice io e mia mamma perché mia mamma si fa tipo forse il colore non ho capito cosa si fa sto guardando lì perché non ho lo specchio davanti non ho ben capito cosa si fa mentre io mi faccio la piega faccio le sopracciglia con il set di Shane tutto Shane e c'è di She Glam lo faccio fuori dalla camera questo qua è il risultato delle sopracciglia mi piacciono molto adesso passiamo agli occhi mettiamo il correttore prima vediamo ok, fino qua ci sono arrivata adesso prendiamo la palette tra l'altro sono stupida perché ce l'avevo allo specchio e fissiamo ciò che abbiamo fatto adesso partiamo con le sfumature poi vabbè contate che io non sono una makeup artist lo faccio perché mi piace tutto ma non è che sia proprio partiamo comunque con gli ombretti e utilizzerò questa palette qua non so quali adesso vedo un attimo poi dopo schiariamo ancora un po' bene lì questo qua è il risultato prendiamo un po' di questo rame e andiamo qua adesso ho preso il mio tesserino sanitario per fare la sfumatura perché sinceramente è l'unica cosa dura ma dritta diciamo che ho so che non si fa però vabbè, faccio metterò lo specchio in modo da vederci questo qua è il risultato devo dire che mi piace molto mi piace molto è venuto molto bene adesso schiariamo la parte centrale sempre con il correttore ecco, questo qua è il risultato adesso penso di intensificare un po' perché mi sembra un po' troppo metterei un po' di glitter non dove ho messo il correttore ma oh mamma mia, ho preso troppi qua adesso sfumo questo qua è il risultato mi piace molto adesso eyeliner no, prima sfumo qua sotto scusate, prima sfumo qua lo faccio fuori dalla camera perché me lo metterò con questo se no non sono capace di metterlo bene ok, adesso lo aggiusto qui non so perché è più lungo di qua ma ok, questo qua è il risultato diciamo che non era proprio quello che mi aspettavo però per essere la prima volta va bene così adesso faccio la stessa cosa che ho fatto sopra sotto quindi creo un bello sguardo tra l'altro sapete che io sono in quinta superiore, no? sì, anche perché ho 18 anni in teoria comunque sono in quinta superiore e vi devo dire che la presenza dell'esame si sente fin da subito proprio voi entrate a scuola la prima cosa che vi dicono è ragazzi, quest'anno mette la maturità grazie, lo so anch'io tra l'altro sono molto contenta perché ho fatto l'interrogazione in italiano ormai mi sembra due settimane fa due sì ho due o tre settimane fa e sono molto contenta perché è andata veramente bene ho preso 10 sui leopardi e sono veramente contenta cioè non me l'aspettavo per niente adesso metto il mascara comunque sono molto contenta perché posso essere onesta mi aspettavo di meno cioè ok, non ho sbagliato niente però il giorno prima ovviamente non sono partita dicendo prenderò 10 ok, questo qua è il risultato del mascara mi vedo l'acidia un po' strana ma ok questo qua è il risultato occhi mi piace molto devo dire la verità ovviamente domani lo farò un goccino diverso magari un po' più gioioso però per adesso mi piace molto tra l'altro domani mi farò le unghie finte perché come vedete non ho più il semi permanente essendo che ho deciso di togliere un po' per far respirare le unghie perché comunque erano veramente rovinate le mie sotto e quindi ho deciso di farle unghie finte questo qua è il risultato adesso passiamo alle labbra allora per le labbra voglio utilizzare una lip combo che sono matita e rossetto non sono della stessa marca perché questa qua è di Astra questa qua è di Maybelline e diciamo che io a me piace sempre mettere la matita più scura e il rossetto più chiaro quindi l'ho già fatta vediamo come diventa questo qua è il risultato allora questo qua è il risultato mi piace molto questo make up ovviamente ripeto magari lo renderò un po' più illuminoso diciamo un po' più felice io spero che vi sia piaciuto questo video spero che ovviamente so che a tutti non potrà mai interessare questo genere di video però spero che l'abbiate apprezzato comunque e nulla se avete qualche commento da fare se vi piace il trucco se volete farmi gli auguri sono tutti ben accetti qua sotto vi mando un bacio e noi ci vediamo presto spero con un nuovo video qui sul mio canale ciao ciao